E le cose accadono così soltanto in Italia. Abbiamo presentato questo bellissimo disco già ad aprile scorso nella versione televisiva del Carletto Show e il disco ha avuto successo sei mesi dopo. Signori e signori sarete sempre sani e salvi solo se sintonizzati su televisione e radio, sintonizzati sul Carletto Show. Ciao Ivan, benvenuto. Il regista sta dall'altra parte del vetro, noi salutiamo il vetro, ma oggi sarà il tempo nuvolo. Mi sento molto solo, molto ma molto solo. E allora Ivan DJ lo voglio qui a fianco a me. Benvenuti, voglio darvi ovviamente tutti i nostri numerini, tutte le nostre coordinate geografiche o meno per poter interloquire con noi, per poter messaggiare eventualmente. Il numero è il 386267555. La pagina su Facebook è quella di Carletto oppure la pagina pubblica, l'official fan page di Italiana Radio. Ci siamo! È la quarta puntata, come al solito abbiamo lanciato nelle scorse giornate di novembre, il nostro sondaggio sui nostri networks. Ivan è plurale, si mette la doppia S. Ovviamente io vorrei che Ivan parlasse con me, ma lui fa il suo ruolo di regista, lui gestisce al massimo un mouse oggi e quindi assolutamente non parlerà. Però io magari auspico un miracolo da qui alle 17. Italiana Radio, stavo dicendo, stavo parlando del sondaggio. Oggi abbiamo voluto essere, diciamo, tornare indietro di quattro giorni a quella giornata veramente di sport, ma che dico sport, una vergogna nazionale. Alla Rechi di Salerno, davvero una vergogna. Salernitana, nocerina, non è andata in scena, o meglio, è andata in scena, ma con una vera e propria farsa. Abbiamo chiesto ai nostri amici su Facebook cosa pensavano di tutto ciò. Ovviamente non ci siamo certamente dilungati e non ci dilungheremo assolutamente solo su questo, ma avremo tanta, tanta, tanta carne al fuoco. Ovviamente parleremo delle uscite cinematografiche della settimana. Esattamente oggi in Italia arrivano tanti bei film e ne parleremo diffusamente nel corso della trasmissione. Parleremo anche di un libro perché il Carletto Show vi ha sempre raccomandato di leggere, 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 che c'è sempre tanto bisogno di leggere. Ma ovviamente lo spazio prioritario spetta alla musica, ai brani che... di solito al Carletto Show vanno i brani che poi non conoscete molto, ma che apprezzerete nel corso del tempo. E voglio farlo ancora una volta all'esempio di Capital City, questo gruppo che viene dall'America, Precious Man, da Los Angeles. Ebbene, la loro canzone Safe and Sound, bellissima, Carletto ha provato anche a cantarla e a rovinarla oggi. Insomma, l'abbiamo presentata nella trasmissione televisiva nello scorso aprile, ma badate bene, è una canzone che era uscita già nel 2011 ed era passata praticamente inosservata. Se non fosse che una pubblicità di una nota marca automobilistica tedesca... Non stiamo qui a fare pubblicità. No, non lo facciamo e non lo faremo mai. Ebbene, l'ha fatta conoscere in Europa solo tramite questo spot pubblicitario. Insomma, l'abbiamo conosciuta. Noi del Carletto Show ci siamo ovviamente affezionati già da aprile scorso. E poi è stato un susseguirsi di successi tutta l'estate ed ovviamente anche in questo inizio di autunno 2013. E noi, se di successi dobbiamo parlare, assolutamente vi proponiamo questo che arriva. Lui veramente ogni cosa che tocca la fa diventare d'oro zecchino. Si chiama Calvin Harris e il suo nuovo disco. I might be, anyone, a lone fool, out in the sun, your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold, you know. I might be, anyone, a lone fool, out in the sun, your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know.